Era tutto fatto per il prestito di Alfredo Bifulco al Brescia ma poi, con la svolta societaria e l'arrivo del presidente Cellino, è cambiato tutto. Ne ha approfittato la Pro Vercelli che si è inserita nella trattativa, e ha raggiunto un accordo con il Napoli e lento orage del calciatore per inserire nell'organico a disposizione di Gianluca Grassadoni all'esterno d'attacco classe 97 nella scorsa stagione in prestito al Carpi. La Pro Vercelli ha battuto la concorrenza del Venezia e del Palermo, che avrebbe accelerato per Bifulco se fosse arrivata la cessione di Lofaso. Bifulco ora è in nazionale under 20 per lo stascia del CT Guidi, che terminerà domani. Venerdì sono previste le visite mediche e la firma sul contratto.